ciao e bentornati ad una nuova puntata di stars and fragrance oggi parliamo dello scorpione il segno più seducente dello zodiaco ama la bellezza è passionale è caldo e tra le fragranze femminili non potevo che scegliere Jean Paul Gaultier la belle intense come vedete la rappresentazione di un morbido e caldo corpo femminile con al collo rose luminose tra le sue note pera fava tonca e vaniglia assolutamente seducente e per l'uomo dello scorpione ho scelto la nuova fragranza di caroline herrera bad boy una fragranza che racconta di un uomo che sa sedurre con la sua infinita dolcezza e che ti farà sempre sentire suo tra le sue note fava tonca e cioccolato salvia e bergamotto ciao ciao ciao